Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video guida dal vostro Dark Chaos in the World Oggi sono qui per andarmi a mostrare uno degli incarichi epici della settimana 8 che ci richiede Danza nella cucina di Dor Burger Molto 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 semplice Ci andiamo in questo preciso attimo quindi teletrasportiamoci nel mondo di Fortnite e let's go Eccoci arrivati al Dor Burger Ovviamente dovremmo entrare dalla porta Ok Recarci alle cucine Precisamente qui dentro e qui dentro fare le mott E ovviamente ci darà la missione completata Quindi molto 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 semplice ragazzuali Bene io spero che questo video vi sia stato d'aiuto Mi raccomando ragazzuali di lasciare like al video E niente io vi ricordo come al solito che ci vediamo tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 17 in live qui su YouTube E niente Un abbraccio dal vostro Dark Chaos in the World Bella ragazzuali Bye Ciao e piabbiamoci alle ore 17 inünüzio E slide Ciao e ciao